Torna a salire il tasso di positività e anche il numero dei pazienti ospedalizzati. 54 nuovi casi di covid oggi in Abruzzo ha dato esito positivo il 6% degli 888 tamponi molecolari analizzati nelle ultime ore, tramite cui il virus è stato individuato in 43 persone residenti in provincia di Chieti, 7 residenti in provincia dell'Aquila, 4 nel Teramano e nessuna nel Pescarese. Una persona invece viene da fuori regione. Il più giovane tra i contagiati ha 9 mesi, il più anziano 73 anni. Oggi 148 guariti e un morto, che porta il bilancio delle vittime a 2.438. Attualmente in Abruzzo sono 7.854 e positivi accertati, 95 in meno rispetto a ieri. Di questi, 278 pazienti, 7 in più rispetto a ieri, sono ricoverati in ospedale in area medica, 29, uno in più rispetto a ieri. Sono quelli in terapia intensiva, mentre gli altri 7.545, 103 in meno rispetto a ieri, sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL. A partire dalla mezzanotte di oggi, inoltre, anche il comune di Sant'Egidio alla Vibrata sarà in zona rossa. In base ai 37 casi registrati nella settimana tra il 3 e il 9 di maggio, il governatore Marsilio ha firmato l'ordinanza regionale numero 30, che stabilisce le massime restrizioni nel comune del Teramano. Nella medesima situazione rimane Celano. In provincia dell'Aquila, sono questi gli unici due comuni abruzzesi in zona rossa.